Di Maio sul no alla tab, tiro dritto, altre priorità, sconsiglio di creare tensioni, Salvini il governo non salta ma bisogna fare le cose. Forza Italia, alta velocità serve al paese, primarie pd spida, tre con Giacchetti, Martini e Zingaretti, il più votato dai circoli. Vittime della montagna, dell'imprudenza, due morti in Baldaosta e Valtellina, due dispersi, caos al Brenner, ispezione del ministero. Il Papa d'Abu Dhabi, prima volta di un pontefice nella penisola araba, otto secoli dopo, l'incontro di San Francesco con il sultano. Sparatori a Roma, identificati gli aggressori che hanno ferito gravemente un 19enne campione di nuoto, forse colpito per errore. Lezioni di latino in Piemonte, l'iniziativa di un professore di lettere in pensione che i porta, gli adulti, sui banchi. Incursione dietro le quinte di Sanremo, conto alla rovescia per l'inizio della rassegna. Martedì le prime esibizioni sul palco dell'Ariston, Claudio Baglioni ai microfoni del TG1, sarà un festival dell'armonia. Buonasera dal TG1, è ancora confronto nella maggioranza sull'alta velocità Torino-Lione di Maio. Averte